Il Cerchio World risponde ai bisogni della comunità grazie a un team di persone specializzate e attrezzature sicure e adeguate. Trasportiamo tuo figlio a scuola. Ci occupiamo dell'alimentazione dei tuoi bambini. Offriamo servizi ai tuoi cari in casa di riposo. Assicuriamo l'igiene del tuo luogo di lavoro. Ci prendiamo cura dei parchi pubblici o del tuo giardino. Possiamo occuparci del tuo trasloco e vendiamo i mobili per la tua casa. La nostra missione è offrire servizi per la collettività. Il Cerchio World, la tua fiducia, è ben riposta. Grazie. Grazie a tutti